Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Questo martedì 20 agosto andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie che trovate nei quotidiani che sono già in edicola. In questa prima parte come di consueto spazio alle prime pagine non solo locali ma anche nazionali. Partiamo però con i giornali di casa nostra, le quattro edizioni del centro. Questa è l'edizione di Pescara con cui apriamo e apre con la cronaca anziane raggirate presa la banda. Pescara nei guai quattro donne sospettate di altrettante truffe in Abruzzo. In alto, ed è un tema che ritroveremo oggi soprattutto in tutte le edizioni del centro ad esempio, ma soprattutto sulle testate nazionali. Crisi di governo, oggi è il giorno di Conte, il Premier parla al Senato, il Movimento 5 Stelle è incerto tra voto e alleanza col PD Salvini. Grida al tradimento. Vedremo che questa notizia, ovvero il giorno del discorso del Presidente del Consiglio Conte, sarà un tema ricorrentissimo, sarà il tema centrale dei giornali di questa mattina. A Sant'Angelo esplode la bombola del gas in fiamme un casolare. La fotonotizia è dedicata proprio all'incidente. Lingue di fuoco, fiamme e tanta paura per l'esplosione di una bombola di gas e in un casolare incontrada crognale a Città Sant'Angelo. In quel momento, per fortuna, è disabitato per l'assenza dei proprietari. Incendio che è stato domato dai vigili del fuoco di Pescara e sarebbe partito da un cortocircuito. Nelle cronache, rimaniamo a Pescara, vigili, due nomi per il nuovo comandante, totocomandante delle vigili urbani per la sostituzione di Carlo Maggitti. Il primo nome è Giovanni Cichella, capo della Polizia Municipale di Pineto. L'altro è Marco Porreca, alla guida della Polizia Locale di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Nel Pescarese, il giudice blocca due mariti violenti, via dalle mogli. A Montesilvano, il 7 settembre, un esercito di bagnini per giovanotti. Consiglio regionale, chi sono i sette abruzzesi nuovi ambasciatori nel mondo? Li scopriamo all'interno del quotidiano, poi ovviamente lo sfoglieremo anche per lo sport. Leo Junior, io il Pescara e Pelè, una vita nel calcio. L'ex campione brasiliano che è tornato di fatto a Pescara. Poi nelle edizioni del TG faremo anche ascoltare le sue parole. Per il Pescara arriva Castanos ed è un ritorno di fatto dalla Juventus e si tratta per il Baby Bocic dell'Udinese. Queste le trattative in casa biancazzurra. Andiamo sull'edizione teramana del centro che apre sempre con la cronaca, rischia di morire negli Stati Uniti salvato. Giovane teramano sta per soffocare su un treno e viene soccorso per fortuna in tempo. La fotonotizia è dedicata alla tragedia in mare a Silvi. L'autopsia conferma nuotatore ucciso dall'elica. Il 63enne ex marittimo di Silvi Mario Deustacchio è stato ucciso dall'elica della barca che sabato pomeriggio lo ha trovato mentre stava nuotando al largo di Silvi. Nelle cronache l'emergenza rifiuti piano per riaprire l'impianto CIRSU. Teramo scoperta truffa del sisma da 35 mila euro. A Roseto invece, cambio in comune, arriva a ottobre il capo dei vigili urbani. Dall'altra parte ritroviamo l'intervista a Leo Junior, ma in basso per il basket Campitelli, nuovo sponsor del Roseto, l'ex patrone del Teramo Calcio, ha presentato l'abbinamento della sua azienda da Sapori Veri agli Sharks di Roseto. Andiamo sulle edizioni di Chieti. Il lanciano basto, la frana fa paura, partono i lavori. Chieti, il comune è a rischio elevato il versante occidentale della città. È la fotonotizia dedicata a Robi Facchinetti, senza voce ad attesa, controlli in ospedale. Il concerto in piazza è rinviato al 30 agosto. Robi Facchinetti non si è esibito, vediamo nella foto, non si è esibito l'altra sera al concerto di attesa perché è rimasto senza voce. Ha preferito quindi farsi visitare all'ospedale San Camillo e annunciare ai fan che tornerà nella cittadina sangrina il prossimo 30 agosto. A Chieti, cardiochirurgia, pochi medici, interventi ridotti. L'evento dell'estate è Fossa Cesia, si candida per giovanotti. Nozze al mare, siamo a Basto, sì da settembre in sei strutture. E poi per lo sport, Nicolás e quel sogno chiamato MotoGP, Nicolás da Dario Spinelli, il pinota di Città Sant'Angelo, che sogna l'ingresso nel mondo della MotoGP. Chiudiamo le edizioni del centro con quella aquilana. Concerti, 2000 posti a pagamento, perdonanza all'Aquila, le regole per seguire le esibizioni di Mannoia e il volo. La foto, il ciclista Pizzanti fuori pericolo, voglio tornare in bici, è ancora in ospedale dopo l'investimento. Orlando Pizzanti, dopo la grande paura in seguito all'investimento, subito, mentre si allenava sulle strade di Ocre, è successo tutto in una frazione di secondo racconta. Cantiere ad Avezzano, piazza Mercato, alberi abbattuti tra le proteste a Sulmona, auto del cronista a fuoco, è stato un atto doloso. E poi tragedia ad Avezzano, cade dal trattore e muore dopo 20 giorni. Come vedete, il resto della pagina è simile alle altre, soprattutto per quello che riguarda lo sport. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle colonne del messaggero, ovviamente la parte dedicata alla regione Abruzzo. Apre così, nel Mirino, la città dei disperati, il borgo dei pescatori nel capoluogo adriatico. Pescara da rifugio a numerosi, closciare e sbandati, tetti diroccati, a rischio crollo, covid e la malavita, il progetto antidegrado del comune. E poi a Silvi ritroviamo la notizia straziato dalle eliche, l'autopsia conferma le cause della morte di Mario De Ostacchio. Di spalla, la classifica Tempo Libero, Pescara è la capitale del cinema. In alto, sotto la testata, Gran Sasso, alpinisti sospesi con le corde alla parete, salvati di notte. All'Aquila, la perdonanza, la bolla esposta nella sede di Banch'Italia per lo sport. Serie B, Pescara, segnali positivi nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli. Il mercato servono un urgente rinforzo in mediana, è fatta per Castanos dalla Juventus. Fiorillo Capitano dice, abbiamo retto contro una big. Scendiamo al centro pagina per vedere le altre notizie. Rigopiano chiude il ristorante degli ex dipendenti, i sette soci lavoratori della Cucumella, alla ricerca di nuove chance di rilancio. E poi un carabiniere, direttore del parco, è il colonnello Luciano Sammarone, l'area protetta più importante d'Italia, il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. È un nuovo direttore, è Luciano Sammarone, colonnello dei carabinieri forestali. In basso, a Marcord, il grande ritorno a Pescara, ovviamente, di Leo Junior. La città, dunque, siamo in provincia di Teramo, che apre con la notizia dell'autopsia, che conferma che il bagnante è stato ucciso dall'elica, lesioni mortali oggi sopra al luogo sulla barca sequestrata al pescatore. E poi, in alto, pericolo sul Gran Sasso, soccorsi altri cinque alpinisti della domenica. A Giulianova, oltre un milione di lavori per l'ospedale. E poi scendiamo. Come vedete, la fotonotizia e tanti box a corredo. La fotonotizia è dedicata alla passionaccia di Luciano Campitelli, dal calcio al basket, main sponsor della Sapori Veri. A Roseto degli Abruzzi, cambiamo argomento, nulla osta al trasferimento. Osmi a capo dei vigili. Sempre a reddito, aggressione omofoba. Il ristoratore si è scusato. Dall'altra parte, Emanuele Pierangeli, un abruzzese che collassa in metro a New York, 36enne, salvo per miracolo. Miss Abruzzo, Miss Italia, oggi e domani in Val Vibrata. In basso, a San Gabriele, oggi la via Latte Indopoli dei Giovani per il Teramo, aspettando Bombaggi, Infantino e in uscita. Poi c'è già il Catanzaro, ovviamente. Siamo in casa Teramo, che domenica farà il suo esordio in campionato. Andiamo adesso sulle testate nazionali. Come vi avevo detto prima, chiaramente la notizia centrale è il discorso di questo pomeriggio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Iniziamo con Repubblica, che definisce questa la fine di un governo bellissimo, bellissimo, tra virgolette, come lo stesso Conte aveva definito il 2019, proprio a capodanno. Sarebbe stato un anno bellissimo, aveva detto Conte, e invece per Repubblica è la fine di un governo, ovviamente, ironicamente bellissimo. Oggi il Premier, che così aveva definito il 2019, si dimette dopo 445 giorni. Nel suo discorso al Senato, ha annunciato un attacco a Salvini, i gruppi parlamentari dei grillini avvisano Di Maio, mai più intese con i leghisti. La crisi adesso è nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dai 5 Stelle, offerta di dialogo al PD per un Conte bis. Ci sono le dichiarazioni di 4 protagonisti della crisi, ovvero Di Maio, che dice, la Lega ha coltellato il Paese, ora inventa la bufala di un patto 5 Stelle Renzi. Giuseppe Conte, escludo, che sia possibile qualsiasi continuità con la Lega di Salvini. Ovviamente, Matteo Salvini, che dice, si va verso un inciucio vergognoso, che tradisce la volontà del popolo. E il segretario del PD, Nicola Zingaretti, serve un governo forte di rinnovamento. Oppure, è meglio il voto. Ovviamente, ci sono altre notizie che riguardano, per esempio, la morte di Simon, morto in 40 minuti. Indagine sui soccorsi, la tragedia nel Cilento. In basso, il re dei fumetti contro Trump, censurato, la lite tra Spiegelman e Marvel. Cambiamo quotidiano. Adesso andiamo sul Corriere della Sera, che apre con i 5 Stelle divisi sul PD. Oggi Conte parla in serato. Non farà sconti per lui la crisi aperta e seria. Assemblea tormentata, Di Maio Cauto, la parola al colle. Zingaretti o un esecutivo forte. O il voto. Nei box, il retroscena di Francesco Verderami, Forza Italia e l'opposizione con riforma elettorale, però. Le trattative, la proposta di un governo con la Lega, ma senza Salvini. Trattative a cura di, come vedete, pezzo a cura di Tommaso Labbate. Decisione della Cassazione, Dopo 18 anni, Modugno era mio padre, ora è ufficiale. L'attore Fabio Camilli, 57 anni, ha visto e riconosciuto la paternità del grandissimo cantautore Domenico Modugno. La stampa, ovviamente anche qui, spazio alle parole di Conte. Oggi Conte si dimette trattativa fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, governo in due tappe. Giorgetti Salvini deve fare come Bossi nel 94 e stare fuori dall'esecutivo. Bruxelles e le ID di ottobre. Questo è il pezzo di Marco Zatterin che riguarda i conti pubblici. Come vedete, anche qui ci sono i box con quelli che vengono definiti, cioè con quelli che sono di fatto i quattro protagonisti di questo momento politico, ovvero Conte, Salvini, Di Maio e Zingaretti. Il Fatto Quotidiano la mette sul Western, sfida all'Ok Corral. Vediamo con raffigurati il Premier Conte, il Ministro dell'Interno Salvini. Oggi il Senato Conte lancerà il suo jacuzzi a Salvini, Ministro dei Noi e delle Assenze, che risponderà. I titoli di coda saranno per il Quirinale. Ovviamente ci sono dei box che vanno ad approfondire alcune tematiche. Fronte 5 Stelle, Di Maio e l'euforia di poter tornare ancora centrali. Fronte Dem, PD Nuova Guerra per bande. Tutti contro Zingaretti. Franco Cardini, Salvini chiama la piazza perché sa di essere debole. c'è il fondo del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intitolato Dite qualcosa, semplicemente dite qualcosa. In basso, quei politici in mutande, a Weimar, i nonni del papete, estate 1919, lo scandalo delle foto di Herbert e Nusche, è un salto un po' all'indietro. Per lo sport, ci sono le parole di Arrigo Sacchi, siamo un popolo di arrivisti, dice, la Juve deve pazientare con Maurizio Sarri. Il manifesto è più esplicito di così, la resa dei conti, con il discorso di Conte oggi in Senato, la crisi fantasma entra in Parlamento per poi trasferirsi al Quirinale. Trattative avanzate tra PD e 5 Stelle, ma Zingaretti e Di Maio replicano la formula magica, ci affidiamo a Mattarella. Salvini isolato, se la prende con i migranti. Baleari la soluzione, c'è spazio anche per la vicenda Open Arms, Open Arms installo, 18esimo giorno senza porto, allora le Baleari potrebbero essere un attracco. notizie che vengono dal mondo, in Spagna, Gran Canaria, fuoco senza controllo, e poi in Brasile invece c'è il grido d'allarme, dell'Amazzonia, la deforestazione è cresciuta a luglio, del 278%. Libero, ovviamente cambiamo focus, andiamo sulla parte più vicina al centro-destra, nei giornali, Movimento 5 Stelle, PD, un governo invalido al lavoro, le truppe di Grillo si riducono a Plotoncino, 5 Stelle terrorizzati al voto, un sondaggio citato dal Corriere, lì da sotto il 10%, anche i renziani temono di essere spappolati, Zingaretti non sa che pesci vigliare, rinuncia alla pesca, dentro Forza Italia, cresce la fronda pronta a sostenere l'inciucio, la reazione di Salvini, no ai giochi di palazzo, vergognoso tradimento del popolo a centro pagina, l'unica seria è Giorgia Meloni, ferma, coerente e in crescita, poi l'orso è buono se non disturbato, a passeggio in pieno centro, e l'editoriale di Vittorio Feltri, caro Beppe, ovviamente rivolto a Beppe Grillo, il prossimo Vaffa arriverà a te, il tempo si schianta, l'unico governo possibile oggi, Conte in Dona e il De Profundis, dopo la spallata di Salvini, c'è chi rivolge il PD al potere, anche se bocciato dall'80% degli italiani, per nascondere lo scandalo di un Draghi Premier, e poi questo dialogo fantasioso inventato, in dialetto tipicamente capitolino, tra Grillo e Di Maio, a proposito di Di Maio, nel box dice no a Renzi, ma non al PD, ieri vertice con i capigruppo Salvini, hanno scelto l'inciucio, gli faccio i miei auguri, il caso Open Arms, la ONG si rifiuta, Toninelli sui migranti in Spagna, li portiamo noi. Il messaggero, l'addio di Conte, schiaffo a Salvini oggi in Senato, il discorso del capo del governo, che poi andrà da Mattarella per dimettersi, la Lega spera ancora di ricucire, frena la trattativa Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, il Colle avverte, niente blef, e poi Simon, recuperato il corpo, la tragedia del Cilento, si indaga sui soccorsi e il 112 così, non funziona, il ragazzo morto per emorragia. A Fittopoli, la farsa dei rincari, siamo a Roma, a casa al Colosseo per 133 euro, tre anni dopo l'ultimo scandalo, ritocchi irrisori dei canoni comunali. La verità, oggi provano a fare il ribaleggio, Conte parla alle 15, al Senato attese le dimissioni, l'avvocato del popolo pronto a guidare la maggioranza, Ursula, hanno la riedizione dell'operazione Monti, che fece bene solo a chi si oppose. Se l'inciucio in nome dell'Europa riuscirà, farà altri danni, sperano di silenziare le critiche a Bruxelles, ma succederà il contrario, chi si presta, pagherà. Caro Di Maio, mai con Renzi, però con i Renziani, è deciso a governare. In basso, Open Arms vuole pure l'aereo per le Baleari. Dopo giorni di rifiuti, l'ONG apre al trasferimento dei migranti in Spagna, ma pretende di scegliere il mezzo. In basso, San Marino, non si pieghi alla cultura dell'aborto, la legge è addirittura d'arrivo sul Monte Titano. Il mattino, anche qui, Conte, l'addio contro Salvini, oggi il premier in aula, dura, atto d'accusa alle leghista, poi da Mattarella per dimettersi. Il Carroccio prova un ultimo pressing per ricucire con i Cinque Stelle, il Quirinale. Niente blef, il retroscena di Maio gioca su due tavoli e frena la trattativa con il Partito Democratico. Il secolo.it quotidiano vicino a Fratelli d'Italia, vince chi perde, raffigurati di Salvini e Conte sul ring, al governo come alla lotteria, ma basta essere sconfitti per andare a Palazzo Chigi. In basso, nelle notizie di primo piano, quanti insulti Movimento 5 Stelle anti-PD? Meloni pubblica i video. Spagna contro Open Arms, non capiamo i loro no. Carfagna smentisce tutto, mai cenato, con Renzi. L'avvenire, il giorno di Conte, oggi il premier in Senato, nuovi segnali di una possibile intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma come vedete, la crisi politica è a centro pagina, in alto invece c'è la vicenda Open Arms, vite sospese in mare, fra tragedia e speranza, segnalato altro naufragio, le vittime potrebbero essere 100, ancora incerto il destino dei 107 della Open Arms, aperta. l'opzione Spagna, l'editoriale di Francesco Ogni Bene, questo paese in crisi ai nostri giovani, la ricchezza che dilapidiamo. Chiudiamo con il sole 24 ore, i quotidiani generalisti, poi vedremo anche le prime page di sport, allarme, recessione, da Berlino 50 miliardi per rilanciare il PIL, banche centrali, la Bundesbank, economia ferma, Scholz, ci sono margini per aumentare la spesa, Pechino riforma il sistema di tassi di interesse, spinge le borse, Milano più 1,93%, Trump attacca ancora la Federal Reserve, subito un taglio dell'1%, e iniezione di nuova liquidità. Per gli investimenti, l'infrastruttura è 6 miliardi non spesi, la sorpresa del bilancio di fine 2018, ovviamente anche qui, Conte oggi al Senato, Jacuzzi contro Salvini, e Orgoglio su Conti e Unione Europea. E poi cedole boom per 1.200 big mondiali. Siamo adesso ai quotidiani sportivi, di cui vediamo le prime pagine, questa è Gazzetta dello Sport, che fa un parallelo tra il signor sì e il signor no, Balotelli è il signor sì, Mario si presenta a Brescia, e Brescia va in delirio per lui, mia mamma ha pianto, io non ho paura, i miei obiettivi, l'Italia è un gol all'Atalanta, ovviamente, storica la rivalità tra i due centri Lombardi, Materazzi rivuole l'Azzurro, faccia 20 gol, Balotelli, per chi non lo sapesse, è tornato proprio ieri ufficialmente a Brescia, che è la sua città, e giocherà dunque nel campionato di Serie A, torna nel campionato di Serie A, il signor no invece è Mauro Riccardi, volta le spalle agli 8 milioni più bonus del Monaco, e non apre al Napoli, che si cautela con Llorente, vuole soltanto la Juve, ma fino a quando? Inter United, se oggi e sì, domani, sbarca Alexis Sanchez, in alto una notizia che ha trovato spazio anche sui quotidiani generalisti, allarme Sarri, Juve, il tecnico alla polmonite, a forte rischio, che possa essere in panchina nell'esordio di sabato pomeriggio alle 18, contro il Parma, ovviamente, quanto amore per Gimondi, siamo al ciclismo, Merckx chiama in lacrime, la testimonianza di Walter Veltroni, il mio coppi nell'Italia del boom economico, in basso ovviamente c'è tanto altro mercato, Milan nuova pista, Real Jovic, Madrid centro del mercato, Correa Mariano Diaz, e adesso anche il servo, peraltro appena arrivato in Blancos, Riberi c'è l'intesa con la Fiorentina, ora è un passo, e poi il magico Quagliarella sfida, CR7 e Messi per il gol più bello, andiamo sul Corriere dello Sport, che apre con questo gioco di parole, Reunited, perché Sanchez in arrivo a Milano, ritrova Lukaku all'Inter, il cileno chiude definitivamente i discorsi di Bala e Icardi, altre notizie di mercato, mercato, Brescia, Braccia, Balotelli, ho fatto piangere, mia mamma, è felicissima di avermi di nuovo vicino, qui anche per l'Europeo Cellino, ho subito il razzismo degli inglesi, la Juventus, tratta gli esuberi, invece, Riberi è vicino alla Fiorentina, Paratici, muove, Mandzukic, Rugani, e Demre Can, Sarri bloccato dalla polmonite, l'ex Bayern invece apre a commisso stranieri, la carica dei nuovi da De Ligt e Godina, Lukaku e Lozano, si va verso quota 70, l'effetto CR7 sulle scelte di molti big, che hanno preferito l'Italia, in basso, stopper come ali, lo Sheffield United, inventa il calcio, l'invenzione è vincente, il tecnico Chris Wilder, due promozioni consecutive, in casa attacca con i centrali difensivi, Basham e O'Connell, insomma è una vera e propria rivoluzione dal punto di vista tattico, arbitri e bar, bufere, espulsioni, nuove regole, i Rossi a Modric e Fabregas per gli interventi da dietro, riaccendono il dibattito, Tutto Sport invece apre con l'intrigo che riguarda Neymar, Dybala e Suarez a Parigi, vertice Paris Saint Germain con gli agenti dell'Argentino, perché Tuchel vuole Paolo prima che il barrasiliano parta, a Barcellona, Summit fra Paratici e il Barcellona, che mettono sul piatto il cartellino di Dybala e propongono lo scambio, Rakiti-Cemre-Chan, Rugani-Roma o Barcellona, Marchisio no a Suning perché sono bianco-nero, questo è un intrigo davvero quasi inestricabile in questo momento, ma c'è tempo fino al 2 settembre prossimo, in alto lupi da paura e c'è Vasquez, uno a uno dei Wolves del Wolverhampton, ieri sera contro il Manchester United, il Toro che sarà il prossimo avversario del Wolverhampton è avvisato, qui Siviglia, l'ex Rosa Nero può essere l'alternativa in caso non arrivasse Verdi, Forza Sarri torna presto, il tecnico alla polmonite autorizza la Juve a dare le notizie, salterà la trasferta di Parma, di spalla, ciao Felice, in fila dalle 7 per salutarti, Jacobelli, il valore di un monumento, poi Balotelli, grande festa al Brescia, nessuna paura, voglio l'europeo, bene, questa era l'ultima prima pagina di questa prima parte, adesso previsione del tempo, pubblicità, poi torniamo per sfogliare i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6, che ricominciamo sfogliando i giornali di casa nostra, allora ripartiamo con il centro, la pagina Abruzzo, Fondi Europei, eccola qua, Fratelli d'Italia dice l'Abruzzo non perderà le risorse, per testa capogruppo in Consiglio regionale, nessun rischio di disimpegno, stavamo lavorando per recuperare il tempo perduto dei precedenti governi, ambiente, rifiuti da Roma in Abruzzo, sono in corso le trattative, e poi in basso, Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, San Marone, il nuovo direttore, molisano di nascita, 54 anni, comandante dei Carabinieri della Biodiversità a Castel di Sangro, siamo nelle pagine di Pescara, pensionata, incastra le truffatrici nei guai, i falsi dipendenti comunali, fallito il tentativo di raggiro, la vittima a 60 anni, fatto finta di credere a quanto alle quattro donne, invece ha avvertito i Carabinieri, a boldo dell'auto dei malviventi, denunciati, sono stati trovati due grossi cacciaviti, e gioielli d'oro, e poi come vedete i consigli per evitare le truffe, sono sempre consigli utili, specialmente per chi magari è in casa da solo, il giudice blocca due mariti violenti, state lontani dalle vostre mogli, di vieti di avvicinamento alle ex, sono stati imposti a due uomini di Cepagatti e Montesilvano, l'accusa hanno perseguitato le donne, con telefonate minacciose, messaggi assillanti e pedinamenti, altre notizie, fuori pericolo la ragazza ferita nell'incidente, con un mezzo di attiva, e poi 10 nuove guardie per l'ambiente, giuramento in prefettura per i volontari WWF, vigileranno anche su caccia e pesca, rimaniamo a Pescara, il tunnel della stazione, progetto fallito, leggiamo in alto, bici e monopattini elettrici al posto del mercato etnico, scatta la revoca dei permessi ai commercianti, spuntano nuove idee per l'area, e queste sono ripercorse le tappe, cronologicamente parlando, della vicenda del mercatino etnico, trasferiremo gli ambulanti nei mercati rionali, dove ci sono diversi posti disponibili, dice l'assessore Alfredo Cremonese. Per i vigili c'è un cambio al vertice, un pescarese e un teramano in corsa, per il posto di comandante, sono in pole position, Cichella della Polizia Urbana di Pineto, e Porre, che ne arrivò da Piano di Sorrento, Maggitti verso il trasferimento a un altro settore, a settembre scatta l'assunzione di 31 nuovi agenti, di spalla Adriatica Risorse, tributi vicino alla nomina di Dezio come direttore, e sempre per quanto riguarda il comune, il sindaco Masci prepara i trasferimenti, i responsabili degli uffici possono indicare le preferenze, le domande scadono il 2 settembre. Le naia di il rilancio dell'impianto, corsi e attività sportive, lotta contro il tempo per riaprire, lavori su tubi, elettropompe, impianto da reazione e antincendio, per avere le certificazioni richieste, il PD Attacca ci dicano quando torneranno in funzione, Febbo, hanno perso 5 anni, ora siamo pronti, il destino dei lavori, la posizione dei 25 ex dipendenti, resta legata alla riattivazione del centro, interpellanza di Blasioli sul project financing, e sulle naia di sono arrivate anche le parole di Pignoli, che dice dalla giunta un silenzio assordante. In basso il gestore parla, saremo pronti per il 10 settembre, di Matteo Assicura la regione sta collaborando, i lavori vanno avanti, restiamo fiduciosi a Montesilvano, Giovanotti pronto un esercito di bagnini, l'organizzazione del Giova Beach Party, collaborerà con gli Angeli del Mare, domani riunione decisiva in prefettura, mancano 18 giorni, come venivamo dallo scadenzario, il sindaco e il suo staff preparano le prime ordinanze, di vieto di accesso alle auto sulla riviera, dal 1 settembre, di accesso alle persone alla Pineta, il giorno del concerto vertisce in comune, anche sulla movida selvaggia, il sindaco incontra i gestori del Tortuga, dopo la revoca dell'ordinanza, che dà lo stop alla musica alta. In basso Forconi, sequestreremo le case delle prostitute, nuovo passo contro lo sfruttamento, il consigliere, il censimento degli immobili, è quasi terminato. Paura a Città Sant'Angelo, esplode bombola di gas, casolare a fuoco, si sospetta un cortocircuito, all'origine del rogo di vampato, nel cortile di abitazione di Contrada Croniale, nessun ferito. E vediamo anche le foto. Altre due notizie, spoltore, scuola di infanzia e parcheggio, al posto dell'ex mammut, sempre a Montesilvano, spaccia, arrestate due persone, dopo le prerequisizioni, i carabinieri sequestrano cocaina e hashish. Le strade di Francavilla intanto sono state ripulite da Erbacce e Rovi, il consigliere provinciale Paolucci, fatto il massimo con i fondi a disposizione, è meglio evitare le polemiche strumentali, lavoriamo per migliorare in futuro di Spalla, la festa finale in migliaia per i fuochi di San Franco. Cepagatti saluta lo storico commerciante, più di mille persone ai funerali di Pagannone, ricordo che un dipendente ci ha fatto amare la musica. e a San Giovanni Tiatino fibra lavori tra via Amendola e il Corso. Andiamo avanti, piscina di Caramanico, boom di turisti e sportivi, il centro gestito dalla società Val Pescara, ha avviato un progetto congiunto con le altre associazioni, ha allargato l'offerta dei servizi presenti nel parco in alto, siamo a Tocco da Casauri, giù dal ponte, fermato dalle condotte, salvo per miracolo, un muratore romeno che si è gettato da San Clemente a Penne, lavori allo stadio, arriva dalla regione, l'ok a procedere. In basso l'avventura da Tocco a Caponord, 13 mila chilometri in moto, questo è l'avventura raccontata proprio in basso. Siamo a Chieti, cambiamo provincia, sanità, pochi medici per gli interventi al cuore, da ieri il reparto di cardiochirurgia assicura solo le emergenze interne, Capocasa assicura, è tutto ok, ma firma l'avviso per assumere. Il comitato di salute pubblica, un nuovo ospedale tra Chieti e Pescara, questa è la richiesta. La Frana fa paura, partono i maxi lavori, Chieti, il comune è a rischio, elevato il versante occidentale della città, a ridosso del Teate Center. In basso siamo a Fara San Martino, la regione niente fondi per i massi caduti, le gole restano chiuse. Giovanotti si candida anche Fossacesi all'evento dell'estate, questa è l'ultima proposta, il sindaco di Giuseppe Antonio scrive agli organizzatori, nel megaconcerto, la nostra spiaggia è adatta per ospitarla. E poi siamo ad Atessa, come abbiamo letto in apertura, Facchinetti senza voce, concerto rinviato, l'Expu si va a visitare all'ospedale San Camillo, grossi guai all'aria condizionata, ma ritornerò. A Punta a Derci, uno dei luoghi più belli, soprattutto d'estate, lupi fotografati dai turisti, branco vicino al mare, gli esperti non abbiate paura, possono aiutarci con i cinghiali. A Teramo siamo al problema rifiuti, piano per la riapertura del Cirsu, così si uscirà dall'emergenza, il dirigente regionale Gerardini, Deco deve riavviare, Grasciano ne beneficerebbe, l'intero Abruzzo, e sul terzo invaso di Atri, dice, è falso che non serve, sarebbe l'unico pubblico rimasto in provincia. Sul corno piccolo recuperati gli alpinisti, bloccati sul Gran Sasso, in basso, terremoto scoperta a truffa, 35 mila euro, Teramano indagato, non viveva nella casa lesionata, per cui ha percepito un'indennità di sistemazione. A Silvi, l'autopsia conferma, ucciso dall'elica, fatali perde ostacchio, le lesioni alla testa, disposta anche una perizia sul motore, per accertare la compatibilità con le ferite. Nel box, addio all'ex cantante Teramana Di Paolo, nel 2001, aveva ricevuto il paliotto d'oro. A centropagina, rischia di morire negli Stati Uniti, salvato il 36enne Teramano, Manuele Pierangeli, soffoca, soccorso in tempo, su un treno, da un volontario. In basso, bracconieri a Giulianova, tentano di catturare i Germani, alla foce del fiume Tordino. Atri, il teatro romano torna al degrado, a tre mesi dall'attività di pulizia, messa in atto da numerosi volontari, iscritte sui muri ed erbacce, deturpano l'area. A Silvi, è state sicura, oltre 5.000 gli articoli che sono stati sequestrati. E sempre a Silvi, anziana trovata morta in casa, lavegliavano il cane e il gatto. Pensate. all'Aquila, verso il Giubileo Aquilano, concerti, 2.200 poltroncini a pagamento, biglietti a 10 e 15 euro per il volo in mannoia. Ecco come prenotare online, posti in piedi gratis, sul prato di Colle Maggio. E domenica, i pellegrini saranno in cammino, lungo il sentiero del perdono, e della pace. Andiamo avanti, pizzanti fuori pericolo, voglio tornare in bici, parla il neoprofessionista, ricoverato in ospedale dopo essere stato investito a Ocre. È successo tutto in un attimo, automobilisti e ciclisti, più attenzione sulle strade. Rissa per il parcheggio a Cappadocia, due ventenni nei guai. A centropagina, muore 20 giorni dopo la caduta dal trattore, Flammini sbalzato dal mezzo, tamponato da un'auto, guidata da un 92enne, gestiva un maneggio con il fratello. In basso, l'auto del cronista a fuoco, è un atto doloso sul Mona. La perizia dei carabinieri elimina ogni dubbio, indignazione per le frasi social, sui social, e purtroppo non è una novità, contro l'attanzio. Qui siamo allo sport, ci arriveremo tra poco, ricominciamo con il messaggero, gli scenari della politica. Sette senatori in aula, sfidano in aula, il rischio è crisi, il 5 Stelle primo di Nicola, indietro non si torna di Olega, il Democrat Luciano D'Alfonso, evitare il caos istituzionale. Queste sono alcune delle posizioni dei senatori abruzzesi. A Pescara, il Borgo dei Pescatori, casa dei disperati, tra Via Lazio e Via Gobetti, c'è un rifugio dei Clochard, sotto tenti diroccati e ruderi, a rischio di crollo improvviso, un altro obiettivo dell'azione congiunta, anti-degrado, del sindaco Masce, dell'assessore Dinizio, con il Giona, il flop del tunnel, Rapposelli e Pastore, i senegalesi, nei mercati rionali, in basso, 18enne, travolte in bicicletta su Via Tirino, traumi e fratture, e poi la truffa sventata, l'anziana mette in fuga, false dipendenti comunali, cambiamo pagina, a Farindola, chiude la cucumella, persa la sfida del rilancio, il ristorante con camera e piscina, fu aperto, dopo la tragedia dell'hotel Rigopiano, dai dipendenti superstiti, che erano rimasti senza lavoro, dunque sì, è un sogno infranto, investiti 250 mila euro, purtroppo le cose non sono andate, come speravamo, dice Claudio Troiano, della Caritas, le naiedi riprendono i lavori, dopo la chiusura, il PD va all'attacco, mancano le certificazioni blitz dei consiglieri regionali e comunali dei DEM, temono proroga i gestori, con slittamento del project financing, lotta alla droga a Montesilvano, cocaina e hashish, manette per due, è sempre a Montesilvano, decibel e tregua tra il comune e il Tortuga, i titolari del locale, si mettono in regola con il volume della musica, ma le proteste non si placano, Villetta esplode a Città Sant'Angelo, un boato ha annunciato il disastro, poi l'esplosione con fumo e fiamme visibili a chilometri di distanza, vigili del fuoco e carabinieri, ritengono che un cortocircuito abbia fatto saltarinare, una bombola del gas nell'abitazione, Giova Beach Party di spalla, domani si decide per il concerto di Giovanotti, nel box centrale, alto là dei carabinieri a due uomini di Montesilvano e Cepagatti, minacciano le ex mogli di vieto di avvicinamento, Galeone secondo Leo Junior che festa alla Croce del Sud, la presentazione del libro di Lucio Biancatelli dedicato al mister, entusiasma la folla bianco-azzurra, e poi in basso Amelia Ribka Miss anni 70 a Moscufo, Anna Ancuta vola in finale a Caramanico, e poi oggi al Marina il violino di Jennifer Panebianco, all'Aquila Ama stipendi più leggeri per tutti, per la sopravvivenza dell'azienda ricapitalizzazione per 900 mila euro, chiesta a gran voce dalla Lega, è motivo principale della crisi di maggioranza, se non sarà reintegrato il capitale sociale, la società dovrà andare automaticamente in liquidazione. Di spalla ordini religiosi, Santa Chiara promossa sede interregionale dei Cappuccini, e per quanto riguarda la ricostruzione, una centrale di committenza per i grandi appalti, l'annuncio del segretario regionale Mibac D'Amico, commentando il DPCM 76 del 19 giugno scorso, in basso detenuti al 41 bis per due boss, scambio con Tolmezzo, Michele Zagaria ha lasciato Preturo, mentre Giuseppe Setola è arrivato a Costarelle, riservo però sulle motivazioni. All'Aquila la bolla risplende alla Banca d'Italia, sarà ospitata al Salone Centrale fino al 27 agosto, Aquilani e turisti potranno ammirare un documento unico, il Sindaco Biondi ha sottolineato la collaborazione dal 2017 con l'Istituto, che ringrazio dice come ringrazio i carabinieri. Le novità sedie a pagamento anche per l'autorità, ovviamente parliamo della perdonanza aquilana. In basso l'evento torna lo strano film festival, e poi Cencioni, grande mostra a 25 anni dalla sua morte. Piazza del Mercato, siamo ad Avezzano, cominciato il taglio, le motoseglie del comune all'opera per togliere gli alberi, in uno dei luoghi più suggestivi della città. Pochi curiosi assistono a quelli che molti definiscono uno scempio osteggiato con una riuscita raccolta delle firme. I carmelitani contestano la cavalleria rusticana, questo per il festival di Tagliacozzo, e poi per il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, come abbiamo detto, San Marone, nuovo direttore. E poi a Sulmona, Cirilli, grande assente dell'estate, l'attore, non mi hanno pagato e non mantenuti gli impegni con gli artisti da me. Coinvolti, Bonifica, Consorzio di Bonifica, domani il presunto ribaltone. A Chieti, cardiochirurgie, urgenze, soltanto per i residenti, da ieri manca personale medico, non c'è accordo sulla ripartizione, a questo punto rimane in funzione solo Teramo, che assorbe Pescara e L'Aquila. Politica comunale, Marco Tuglio annuncia la sua lista, idea Abruzzo, il nome dello schieramento, Fratelli d'Italia lancerà un candidato sindaco. E poi quest'altra notizia, Ilenia Ginnasta, ventenne, rappresenterà l'Abruzzo, Ilenia Lazzari di Lanciano. In basso, a Brecciarola, tutti in festa per Giulio Ciccone, protagonista e anche Maglia Gialla, per due giorni al Tour de France. Siamo ad Ortona, due albanesi rischiano di annegare, dopo la tragedia di Ferragosto, con i due fratellini cinesi morti, domenica altri due bagnanti, salvati in extremis, alla foce del fiume. Il Consiglio a luglio aveva votato all'unanimità la mozione per l'avvio di un servizio di sorveglianza alle spiagge libere. A Lanciano, Porta San Biagio, via Restauro, transenne in Viovidio, al centro della strada, si è aperta una profonda buca, in basso, abbasto, messi in fuga, banda di ladri in giardino, c'era trambusto, la mattina ho capito, il 37enne racconta, in casa dormiva la mia famiglia, presentata. La denuncia, gole di fare a San Martino, stop ai fuochi d'artificio, come vediamo. A Teramo, l'ufficio Sisma cerca rinforzi, bufera sul bando di Ferragosto, la selezione per il posto di un tecnico, è stata pubblicata il 9 agosto e scade il 23. Il Comune cerca una figura specifica, un ingegnere o un architetto, che siano già però esperti. Il salvataggio, tre alpinisti salvati sul corno piccolo, una coppia si perde sul sentiero Ventricini e viene soccorsa con l'eliambulanza. Cambiamo pagina, andiamo sulla tragedia che ha colpito la tragedia di Silvi, Mario straziato dal peschereccio, i risultati dell'autopsia confermano la dinamica dell'incidente, Deo Stacchio è stato tranciato dalle eliche dell'imbarcazione, è disposto per oggi un nuovo accertamento di compatibilità tra le ferite e le pale del motore, della barca sotto sequestro. A Giulianova svaliggiate le case di madre e figlia, sempre a Giulianova ospedale, lavori nei reparti di allergologia e dialisi. In basso, Martinsicuro perde la sua storica squadra, non ci sarà più l'ASD Martinsicuro, il sodalizio alle prese con gravi problemi economici, non potrà iscriversi, come leggiamo, al prossimo campionato di promozione. Anche qui stiamo per arrivare, come vedete, allo sport e allora rimaniamo per un attimo in provincia di Teramo, andando sulle colonne della città, la tragedia a Torre di Cerrano, il bagnante è morto per le ferite dell'elica autopsia sul corpo di Mario Deo Stacchio, conferma le lesioni mortali, oggi sopra luogo tecnico sul nattante insidioso. A Cermignano, da di matto alla sagra, 46enne di Castel Castagna, arrestato dai carabinieri. Poi collassa sulla metro in vacanza a New York, il 36enne Emanuele Pierangeli, salvo per miracolo, dopo tre giorni in coma, rientrerà a Teramo con la fidanzata Barbara. Oggi comincia la tendopoli dei giovani a Isola del Gran Sasso, centinaia di ragazzi, fino a sabato al santuario di San Gabriele, apre la nuova edizione, il Vescovo Lorenzo Leuzzi. Soccorsi all'alba, i tre bloccati sul Gran Sasso, hanno passato tutta la notte sul corno piccolo, nel pomeriggio, altri due escursionisti recuperati dall'elicottero, e poi Delta Summer, tra audio difesa e pet therapy, inaugurato a Isola del Gran Sasso, con l'assessore regionale Fioretti, il bootcamp aperto alle persone con disabilità. La Sagra di Torano festeggia il cinquantennale, migliaia di visitatori per l'edizione dei record nel Paese del Gusto. Siamo a Giulianova, un milione di lavori all'ospedale, il manager Asl Fagnano fa il punto sugli adeguamenti eseguiti nel 2019, il manager risponde con i numeri alle critiche della politica giuliese sul presunto abbandono proprio del nosocomio. Campitelli passa dal Teramo agli Sharks, si grato l'accordo, il patronne della Sapori Veri sarà main sponsor del basket rosetano per il prossimo triennio. Ha detto, dopo 11 anni nel calcio, sono pronta una nuova avventura nel basket, in una piazza così importante. in basso il ristoratore incontra il ragazzo gay e si scusa per il ferragosto rovinato, aggressione omofoba. Arci gay soddisfatta, il gestore non aveva capito cosa fosse accaduto realmente in bagno. Dal primo ottobre, Alfonso Osmi, comandante delle guardie a Roseto, nulla osta al trasferimento da Atri, dopo Multopoli, sostituirà Tarcisio Cava. Andiamo in basso a Silvi, Vucumprà, sosta selvaggia, cacchi di cani e turni serali. La Polizia Municipale fa il bilancio dell'operazione state sicura per restituire il decoro. Andiamo adesso alle pagine dello sport. Partiamo, ripartiamo dal centro con le parole di Leo Junior, io, Pelé e il Pescara, il bianco-azzurro è la mia seconda pelle, il delfino nel cuore, che gioia, quel 2-0 alla Juve, Maradona fortissimo, ma orei, Pelé, era il sinatra del calcio, il centrocampista del Pescara degli anni 80, qui ho vissuto gli anni più belli della carriera. Torno, perché qui mi vogliono, bene, c'è l'intervista e il bagno di folla, lo stabilimento Croce del Sud, intervista che poi ascolterete nel corso dei nostri notiziari. Ma il Pescara pensa anche all'attualità, ovvero al probabile affare con l'Udinese, si lavora per Bocic, dal club friulano, oltre a Matos, può arrivare il Bebiserbo, domani a Milano, vertice con la Juventus per la firma di Castanos, idea Falletti, il presidente Sebastiani, dice della squadra di Zau, mi piace la mentalità. In basso, Ventura, tecnico della Salernitana, con cui il Pescara aprirà proprio nel weekend. Salernitana, devi cambiare registro, il tecnico tra mercato, indicazioni emerse dopo i quattro gol presi a Lecce, oggi il via alla prevendita. Vediamo anche sul messaggero, siamo sempre in casa Pescara, positivi segnali di crescita, Zauli realista, ma contento, timorosi nel primo tempo, ovviamente si riferisce alla gara di Coppa Italia con l'Empoli, ho visto dei progressi, il portiere Fiorillo in calza, dalla Coppa sono emerse per noi, buone indicazioni. Subito un rinforzo, come abbiamo visto in mediana, torna di fatto, Grigoris Castanos, 21 anni dalla Juventus, giocatore assistito da Giuffredi, è stato richiesto ufficialmente, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in bianco-azzurro. In basso, Campitelli, sponsor degli Sharks di Roseto, e qui lo vediamo, insieme a Cimurosi e Norante, proprio nella conferenza stampa di ieri. Andiamo in Serie C, perché nel fine settimana, oltre al Pescara, inizia anche il campionato del Teramo, manovre di mercato, resta Persia, se Bombaggi non arriva, Barbuti verso Fano, ma bisogna capire quale sarà il destino di Infantino, rimasto in tribuna a Gubbio, Tedino ha bisogno di un terzino sinistro, e c'è il nodo di speranza. Gli avversari, il Cadanzaro rinforzato da tanti, ex bianco-azzurri. Siamo in Serie D, Grandoni, tecnico del Chieti, Chieti comunque ha lottato, speriamo di fare pace con i supporters, dice il tecnico Nero Verde. Invece Bolami, ringrazia i tifosi della Vastese, questo è stato uno dei due derby, quello tra Vastese e Chieti di Coppa Italia, con la vittoria degli Aragonesi. In basso, Meco Monaco, tecnico dell'Avezzano, predica calma, perché la strada, dice, è ancora lunga. Torniamo sulle colonne del centro, torniamo proprio in casa Teramo, con le parole di Minelli, questo Teramo è sulla via giusta, è il 22enne Scuola Fiorentina, Trequartisto, seconda punta, dice, non fa differenza, gioco dove vuole Tedino, e intanto Bombaggi diventa sempre più un rebus, e vediamo che cosa va, e che cosa non va, verso l'esordio in campionato, della formazione bianco-rossa. Dilettanti, Avezzano, Franchi sta meglio, Pontevomano, prende Ndiur, e poi Lanciano, ribalta il Migliani, con l'ultima amichevole, vinta per 2-1, prima del debutto di domenica in Coppa. Da Dario Spinelli, leader del campionato velocità, il pilota di Città Sant'Angelo, a due tappe, dalla fine alla possibilità di mettere un altro titolo in bacheca, per poi, eventualmente, l'anno prossimo, spiccare il volo nella Moto3 mondiale, ovviamente è anche l'auspicio di tutti gli abruzzesi. In basso, Torneo Nazionale Open a Giulianova, Ricca mette tutti in riga, e poi Campitelli, le sue parole, fatemi innamorare della Pallacanestro, l'ex presidente del Teramo, il nuovo sponsor, spero di imparare subito come funziona questo mondo. In basso, l'Acqua e Sapone al lavoro, nella nuova casa del Palarigopiano di Pescara. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina, io vi ricordo gli appuntamenti con i nostri telegiornali, alle 14, alle 19 e alle 23, mattino 6, invece torna domani mattina, puntuale, alle ore 8. È tutto, buona giornata. Grazie per la visione! Grazie a tutti.